Buonasera a tutti ed eccoci qui, sto ascoltando la conferenza stampa di Allegri domani e ci sarà la partita contro la Young Boys che non dobbiamo sottovalutare perché dobbiamo arrivare primi nel girone, ricordatevelo ecco Allegri che parla quindi avete sentito tutti, davanti gioca Ronaldo, gli altri si dovranno decidere ma attenzione, mi è arrivata una telefonata in questo momento pronto? ma perché mi dovete disturbare sempre quando vedo qua i video da Juve? stavo guardando la formazione per domani, che poi domani devo fare il video quando arriveremo primi, scusi ma comunque ah, che è successo? fuori i prescritti i prescritti fuori non ci posso credere, l'hanno presso nel culo col Tottenham agli ultimi minuti i prescritti fuori si, va bene, va bene, cosa volete fare? va bene, va bene, dai dai, non ti dispiacere dai caratterista, dai, non ti dispiacere dai poi l'anno prossimo ci riprovi, dai, d'altronde d'altronde dove minchia volevi andare con questa squadra, dai dove cazzo volevi andare? anzi anzi se ti fossi qualificato sarebbe stato una grazia di Dio sarebbe stato perché proprio sarebbe stata una rapina perché comunque non avrei la squadra neanche per qualificarti se proprio vogliamo dirlo l'anno scorso sei andato in Champions all'ultima giornata con la Lazio che la Lazio vi ha regalato un rigore dei primi, vostro giocatore sennò a quest'ora manco il quarto posto prendevate ma comunque dai, dai ragazzi, ci riprovate l'anno prossimo, non è successo niente, dai prescritti fuori scusa, scusa, sono allegro sono allegro, va bene non ti preoccupare, ciao, ci vediamo eeeh prendeteli nel culo prescritti prescritti in Italia c'è solo la Juve adesso il vostro posto è solo sempre lì a gufarci ma quest'anno mi sa che la prendete nel culo anche quando ci gufarete cari prescritti intanto stasera l'avete presa nel culo voi ciao ciao Champions prescritti arrivederci all'anno prossimo sempre se arrivate ai quarti e domani forza Juve